Adesso facciamo una cosa particolare, colleghiamo un ristorante con un altro ristorante, così uno dirà ristorante la f***a e quell'altro risponderà la f***a da buongiorno, hai capito? Capito. Allora, pronti? Via. Attenzione, vediamo che succede, via. Ecco, ecco, sentiamo il bianco, ecco. Pronto la f***a? Pronto? 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 Sì. Chi parla? Sono Rocco, chi parla? No, guarda, ho sbagliato numero. Io lei, lei ha sbagliato numero. No, guardi, io non ho chiamato nessuno. Figuriamoci io, scusi, lei chi è? Scusi, lei chi è? Io sono Rocco. Ma scusi, lei ha telefonato qua? No, assolutamente. Eh, va bene, ma io nemmeno ho chiamato da lei. E io ho risposto che suonava, cosa devo dirle? E io pure ho risposto che suonava. Ma pensi un po', ma guarda che strano. Adesso sta telefonata, chi è che la paga? Non lo so. Beh, comunque qui ha suonato il telefono, quindi io non è che posso... Anche a lei? Sì, anche a me è suonato. No, ma va, veramente. Sì. Comunque mi ha fatto piacere sentire una bella voce almeno. Va bene. Grazie. Buonasera. E buonanotte. Buonasera. Si sposano! Eh? Allora... Eh no, bisogna collegarli di nuovo. Il bianco, per favore. Pronto? Sì? Pronto? Eh, la sento pochissimo. Sì, buonasera, mi dica. No, lei mi dica. Eh, l'altra volta? È stata lei a chiamare, guardi. Eh? È stata lei a chiamare. Lei? Eh, no, lei, lei, lei e voi. No, io no, e come faccio a chiamare? Io sono a Milano. Eh, ma che potere dica, io... Eh, io sono a Milano, in un ristorante, che sto lavorando e... Eh, io uguale, io uguale, sto lavorando. Ah, anche lei? Eh. Che ristorante è il suo? Eh, io mi trovo a Bacoli. In un ristorante? In un ristorante. E lavora? E lavora. Eh, beh, ma è stasera la seconda volta che capita questa cosa. Ecco, solo che lei dica, caro mio, insomma, non le so dire niente. No, mi spiace, perché non è che... Noi lavoriamo, non è che ci permettiamo di far perdere tempo. Appunto, non abbiamo tempo da perdere, voglio dire. Arrivederla. Salve. Allora, adesso li colleghiamo di nuovo, chiaramente adesso scappa qualcos'altro, altrimenti entrerò io e dirò che ogni telefonata che ha fatto paga sempre a lui, perché lui non lo sa, ma è collegato con altri telefoni, sta pagando a vuoto le telefonate. Così questo si scalda. Come è possibile? Perché è un po' tirchio. O sbaglio? Tieni, cara, usa il microfono. Attenzione, riproviamo, eh. Eccolo. Eccolo. Pronto? Sì? Pronto? Pronto la f***a, buonasera. È il signore di prima. Sì, sono io, signora. È lei sempre? Eh, ma... Eh, vabbè, allora non so, qualcuno... È qualcuno che si diverte. Vabbè, spero comunque che non paghi io ste telefonate. Signori, insieme della t***a, qualcuno sta chiamando all'estero e si è collegata a voi, vi sta rubando le telefonate, eh? Eh. Allora io mostacco il telefono. Signora, se lei stacca il telefono le facciamo la debito dalla t***a. Ci sono delle persone straniere che si sono collegate a questi numeri e stanno sfruttando le telefonate all'estero e voi state pagando quello che loro dicono. Ah, ho capito. A questo punto lo stacco. No, se lei lo stacca loro useranno la linea tutta la notte. Eh, ma scusa, come fanno se non si stacca il telefono? Esatto, allora le devo dare il codice, signora. Non è che si sta divertendo? No, io non mi diverto affatto, io cerco solo di crearle meno problemi possibili. Pronto? Pronto. Ha capito? Pronto. Signore? Dica. Allora ci sono dei personaggi stranieri che si collegano con i ristoranti e fanno pagare le bollette alle persone collegate. Ah, è. Hai capito? E noi lo dobbiamo fare? Allora, lei dovrebbe prendere questo codice in modo che non possono più bloccarlo. Mi dica allora. Allora, digiti il 5, anche la signora. Sì, un attimo eh. Prego. Mi dica? Prego un attimo. Sì. 5, digiti. 5. Pronto? Pronto. Pronto? No, un altro signore, questo, lei si è collegato? Sì. Pronto? Pronto. Si è collegato? Sì. Con chi si è collegato? Ma lei, cos'è? No, signore, questo qui è un altro che non lo sa, venga. Sì, allora. Pronto? Pronto. Sono della t***o, si stanno collegando i stranieri. Io sono il ristorante Libero Tutti. Sì, lo so, però c'è qualche straniero che si è collegato, deve digitare il 5, l'ha fatto? Sì. E digiti anche il Libero Tutti. Il Libero Tutti, il ristorante di primordine. Allora, deve fare il numero 5. Deve collegare, spinga il 5. Chi, faccia il 5. Va bene, un attimo allora, eh. Sì, il Libero Tutti, si colleghi col 7. Attenzione al premotore. Eh, ho digitato il 5. Ecco, faccia l'HV, signora, metta il 2 davanti all'8. Il 2,8 doppiato. Ha digitato? 8, sì. Ok, controlli l'upper, vede com'è. Che devo controllare? L'upper, o sente come suona, l'upper. Ehi, che sarebbe? Nella cornetta deve gridare, upper, così cancella l'evolutivo. Upper. Brava, più forte, signora. Signora, upper, cancelli il 4, spinga il 4. Senta, ma anch'io devo fare l'upper? Gride upper anche lei. Upper? Spinga il 2. Spinga il 2. Il 2? Sì. Quanto da più il 2? Due volte. Signora? Sì. Signora? Mi dica. Ha fatto l'upper? Sì. Adesso, pronto signora? Sì. Ha fatto l'upper? Upper? Upper. Esatto, aspetti. Pronto signora? Sì. Faccia 2-4 e poi riattacca al seguente lito. 2-4. Sì, ce l'ha il lito dietro? Signora? Senti, io ce l'ho il lito. Ecco, stai digitando il 4. Sì. Faccia il lito, signora. Anch'io c'ho un litor, che devo fare? Adesso, prima di chiudere, veda l'URS. Signora? Sì. Ce l'ha l'URS? No. Ecco. Allora, spinga 2-8 e chiuda. Eh, posso abbassare? Sì, signora. Se qualcuno la chiama, lei non dica al ristorante, altrimenti si collegano. Dica web e riattacchi se la chiamano, va bene? Va bene, va bene. Dica se... Grazie. Vediamo se dice web. Aspetta, ma la chiamiamo. Ma devo dire web. Allora, se dice web, io dico, brava signora, le facciamo la parola. Se non dice web, finché non dice web, eh. Aspettazione. Sì, sentiamo web. Pronto. Signore, buonasera. Abbiamo chiesto alla signora di dare web, altrimenti si collegano i stranieri. Di dare? Il web. Il web. Web W-E-B-B. Non abbiamo niente noi. Signore, guarda che se le persone continuano a collegarsi, altrimenti pagate voi la bolletta. Pronto, ristorante Libera Tutti. Eh, mi scuso, aspettate il signor Ristorante Libera Tutti, sto parlando con la signora. Signora? Pronto? Sì. Sto dicendo, se lei non fa il web, rischia che le persone che chiamano si collegano. Non ce l'abbiamo. No, lei deve digitare due volte il quattro e quando lei risponde al telefono deve dire web, perché se non dice web non c'è la cancellazione. Non siamo per chiudere. Non ho capito. Stacca, stacca. Stacca, stacca. Stacca, stacca. Le donne. Insistiamo? Web, lo dico io. Sì, io web. Allora, va bene, ringraziamo Lando Buzanca e la nostra Fogliero. Grazie. 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 Grazie.